Ma io sono imbestialito per il fatto che Renzi e il PD stanno tenendo il Parlamento in ostaggio, parlando di Senato e Costituzione e si rifiutano di cambiare l'unica legge che ho cambiato domani che è la legge Fornero. Quindi come Lega non avrò pace fino a che non cambieremo la legge Fornero, il resto se lo ciuccino loro perché non mi interessa minimamente.